Andrea D'Aloiso, consigliere comunale dell'Udc di Margherita di Savoia, quando sono sorti i problemi in casa Unione di Centro nella vostra amministrazione comunale? Quando il nostro segretario De Rosa è giunto dal sindaco parlando di modificare la giunta comunale e portando proposte per la Puglia prima di tutto, quando lui è dell'Udc, quindi parlava per un altro partito e questo ha dato un po' di fastidio perché comunque ha creato anche scompili all'interno della maggioranza. Secondo me bisogna essere più pratici nella politica e non bisogna mai vedere soltanto le proprie questioni personali, ma bisogna proprio essere pratici e attivi perché soltanto così si può migliorare. Lui invece andando dal sindaco e parlando di altri partiti e di cambiamento comunque di persone dal posto degli assessori, ha fatto soltanto capire che non è diverso dagli altri ma bensì è uguale agli altri. Adesso che cosa accadrà? Tu resterai nell'Udc seppur espulso dallo stesso segretario De Rosa. Io rimango nell'Udc perché ho seguito l'idea dell'Udc sin dall'inizio, da quando sono state prese dall'onorevole Carlucci, quindi io parlo con l'onorevole Carlucci, ho soltanto dei legami con lei per quanto riguarda il partito e andiamo avanti così. Poi vedremo alla fine se ha ragione lui o ragione io perché tutto si vedrà dai fatti, da quello che riesce a fare. Si sono dimessi tre assessori a settembre, a tuo avviso si risolverà tutto così come ho spiegato dalla stessa Carlucci? Si risolverà tutto perché alla fine il sindaco riuscirà a trovare una giusta intesa con tutti, però questi qua sono dei problemi che non devono avvenire perché bisogna essere più attivi, bisogna essere più pratici. Non dobbiamo perderci in chiacchiere per guardare i nostri interessi ma dobbiamo guardare gli interessi della nostra città perché soltanto così si può crescere, soltanto così tu puoi essere ricordato dalla gente e dalle persone. Grazie. Grazie a tutti.